Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi patch 9.21 finalmente tutti sicuramente l'avremo scaricata abbiamo notato delle novità ma purtroppo per quanto riguarda leaks quindi roba nascosta nei file di gioco ce n'era veramente pochissima qualcosa c'era ma niente di esagerato sapete perché? Perché molto probabilmente nella patch 9.20 essendo stata molto molto grande avremo già scaricato sicuramente tutti i file relativi a questi 14 giorni successivi a quell'aggiornamento con tutte le nuove cose tra l'altro ragazzi nel video di oggi parleremo finalmente della modalità orda quella che arriverà proprio questo pomeriggio secondo me o arriva alla fine di questa mattina o arriva insieme al fortbite quindi alle ore 15 ma parleremo anche del ban di dottor disrespect su Twitch io non so se voi seguite Twitch e se lo conoscete ma ha fatto una pirlata ha fatto una pirlata o anche il video che poteva tranquillamente evitarsi gli ha blindato l'account su Twitch raga assurdo e ovviamente come vi anticipavo a inizio del video un po' di leaks qualcosina in giro qualche curiosità anche perché sono questi anche i giorni del E3 che c'è in America quindi ragazzi qualcosa trapela anche da lì prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenermi nello shop quando scioppazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima raga la domandina raga dai ve le faccio sempre ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e ovviamente per chi segue i miei video avrà già capito qual è la domandina ma come ti sembra il nuovo lancia granate di prossimità io l'ho provato una volta sola l'ho trovato in un game ho fatto anche un danno 68 di danno a voi come sembra allora alcuni mi dicono c'hai missili teleguidati altri mi dicono è una schifezza altri mi dicono hai vinto la partita se lo trovi ragazzi io non posso ancora dare un giudizio ma se voi l'avete usato più di me dai fatemelo sapere qua sotto nei commenti che ci tengo tantissimo ma quindi ciancio alle bande e pando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere un'immagine che tutti conosciamo benissimo qualche giorno fa ragazzi vi ricordare vi ricorderete sicuramente appare nel mare il castello di picco polare parentesi picco polare adesso senza castello è pressoché orrendo e inutile ma con la patch 9.21 ragazzi eccolo qua il grande cambiamento per quanto riguarda la morfologia della mappa ragazzi l'ultima villa di spiagge snob è stata completamente rasa al suolo e giustamente uno si chiede ma che diamine è successo beh ragazzi sembrerebbe proprio che il mostro sia uscito dall'acqua e abbia abbattuto camminando dentro la mappa questa casa tra l'altro abbiamo anche la posizione esatta dell'ingresso del mostro come vedete proprio alla base o meglio dietro l'ultima villetta c'è tutto il muro abbattuto insieme all'albero e quindi ragazzi la domanda che ci impugniamo adesso è ma dove cavolo è finito questo mostro è tornato nell'acqua mi spunta fuori tipo fungo ragazzi non si sa ma epic games ovviamente sta cercando di tenerci sempre più in hype proponendoci questi piccoli dettagli che lentamente ci porteranno verso la season numero 10 ma andiamo avanti ragazzi è una grande notizia grande una particolare notizia che arriva dal e3 direttamente da donald master ovviamente è invitato sul banco per discutere per chiacchierare per rispondere a un po di domande donald master durante l'intervista dice chiaramente che la skin del mietitore quindi quella che abbiamo ottenuto al livello 100 del post battaglia season 3 non era inerente a john wick e giustamente sostiene che l'unica skin inerente a john wick beh è john wick quindi mi viene da chiedermi cioè tutti l'abbiamo chiamato john wick da da anni oramai ragazzi e allora che cavolo è così una skin un assassino easy the reaper non lo so ragazzi io ve lo dico ci arriva anche questa notizia ed è giusto che anche voi la sappiate se per caso non state seguendo in tempo reale le tre ma andiamo avanti ragazzi eccolo qua dottor disrespect due parole su questo streamer americano che oramai è abbastanza popolare anche su twitch sono tanti anni che porta contenuti lui gioca principalmente ai giochi fps gioca ai battle royale ha giocato anche a fortnite ha giocato a pbg ha giocato a day z tantissima roba ragazzi dottor disrespect mi fa la pirlata incredibile che gli costa il ban da twitch voglio farvi vedere direttamente il pezzo di video lo spezzone eccolo qua ragazzi qua siamo alle 3 c'è lui e il genio del male guardate che diamine fa viene inseguito da un cameraman se ne va in bagno easy questo è uno spezzone che non c'entra nulla è una meme che gli hanno fatto eccolo qua va in bagno si chiude in bagno inizia a pisciazzare violento e probabilmente anche a scaghicchiare un pochino mi va in streaming dai dai guardalo guardalo come si chiude il video guarda guardalo guardalo aspetta 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 ma va che si cala la braga dai dai però dai ragazzi mi ha fatto la minchiata di andare in streaming dal cesso qual è stata la cagata che già giusto per stare in comune che ha ripreso anche delle persone che entravano in bagno e ha violato due leggi federali degli stati uniti legge numero 1 ha ripreso delle persone senza il consenso autorizzato dagli stessi legge numero 2 che è una cosa molto più grave ha fatto delle riprese in un bagno cosa che non si può assolutamente fare ovviamente per motivi di pudore tra virgolette no avete capito di privacy molto intima delle persone bannato da twitch blindato e si è un po sollevata la community di streamer ninja tfu ad esempio parlando di noi che seguiamo fortnite hanno spezzato una fiocina in favore di dottor disrespect che adesso non si è ancora pronunciato e ovviamente aspettiamo che faccia la sua mossa e vediamo come reagirà sapete che twitch è assolutamente insindacabile sulle decisioni vedi ad esempio phase high sky quello che gli è poverino successo ma andiamo avanti ragazzi ed eccola qua schermata di caricamento che ci verrà regalata con il completamento di tutte le sfide che arriveranno con la modalità nuova quella di oggi ragazzi che si chiama assalto dell'orda se non ricordo male una modalità che vi avevo in realtà già anticipato davvero che merita di essere giocata per il semplice motivo che come vi avevo anticipato non ci saranno avversari cioè giochiamo in un team da quattro con i nostri amici contro gli zombie il che è una figata perché vi dico che è una figata perché da videogiocatore ultradecennale si ritorna a uno stile arcade di gioco che è una cosa meravigliosa per me cioè gioco con tre miei amici con un obiettivo comune senza interagire con persone esterne che diventano miei nemici il classico stile arcade dei videogiochi anni 90 e metà degli anni 2000 tra l'altro ragazzi come vi anticipavo qua c'è una schermata una mezza schermata presa direttamente dal game la mappa reggerà un sacco di zombie e sarà adattata a questo tipo di gioco ci saranno bonus moltiplicatori combo zombie colorati ve ne ho già parlato ma eccole invece molto interessanti invece le sfide quelle che ci regaleranno al completamento di sette sfide la copertura che è questa qua davvero molto bella si chiama free and e al completamento di tutte le sfide invece la schermata di caricamento quella che vi ho mostrato qualche secondo fa ma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 e un quarto in live ciao ciao